L'intervento di Dio ci rende capaci di generare la vita, lo ha detto il Papa nell'Omelia. L'umilità di dire al Signore, Signore sono sterile, sono un deserto, è ripetere in questi giorni quelle belle antifone che le chiese ci fa pregare. O figlio di Davide, o Adonai, o Sapienza, oggi o Radice di Gesè, o Emanuele, vieni a darci vita, vieni a salvarci perché tu solo puoi, io solo non posso. E con questa umiltà, umiltà di deserto, umiltà di anima sterile, ricevere la grazia, la grazia di fiorire, di dare frutto e di dare vita.